Mattinate di riposo e un pomeriggio di lavoro esclusivamente con il pallone, questo è il menù del quarto giorno dell'Avelino a Palena. Temperature più basse rispetto a quelle toride che hanno accompagnato la fase iniziale della preparazione precampionato nel ritiro in Abruzzo. Esercizi di mobilità articolari in apertura di seduta per la squadra che è stata divisa poi in tre gruppi ed è stata impegnata in una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità per migliorare i passaggi in spazi stretti evitando il pressing, recupero palla e il gol degli avversari in porte ridotte. Sul rettangolo di gioco si è visto anche Federico Casarini che è in attesa dell'accessione ma ha chiesto e ottenuto dalla società l'autorizzazione ad allenarsi a Palena nel rispetto del contratto collettivo dei calciatori. Sotto lo sguardo vigile del professor Laporta il centrocampista ha svolto la parte atletica con il gruppo ma poi si è allenato a parte in compagnia di Patierno che invece si è poi unito regolarmente al gruppo. Dopo Casarini in ritiro sono attese anche Rizzo e Canutì che sono sempre in lista di sbarco.